Si serve. Cerchio Medianico K, attraverso Marco, a cura di VB, domanda Che cosa intendi per inconscio collettivo? Guida spirituale. Quando io parlo di inconscio collettivo, intendo dire che in alcune riunioni medianiche l'inconscio di tutti i presenti si serve della mente del mezzo per esprimere se stesso. Perciò ho parlato di inconscio collettivo in questo senso, non nel senso che la vostra scienza chiama tale.